Giornata di cambio al vertice alla caserma degli Alpini Pasquali. Il colonnello Gianmarco Laurencing lascia il comando del reggimento al parigrado Mario Bozzi. Abruzzese per lui il ritorno conosce bene il reggimento, ha operato all'Aquila durante il terremoto del G8, ma la novità molto attesa è anche il comando del battaglione l'Aquila, una delle componenti del nono che per la prima volta sarà comandato da una donna, il tenente colonnello Monica Segat, presente oggi con i suoi uomini e le sue donne con le stellette che ha sostituito il tenente colonnello Federico Petrocco. Gli anni del colonnello Laurencing al comando del reggimento sono stati intensi caratterizzati dalla pandemia e conseguenti difficoltà ma soprattutto dal grande sostegno aiuto che le penne nere hanno sempre fornito alla popolazione locale, presenti molte autorità. Una grande emozione oggi, tanta gente, sono stati due anni molto impegnativi però nello stesso tempo molto belli e molto intensi, un reparto straordinario fatto di alpini forti, coraggiosi, unici nel suo genere, un reparto che coniuga innovazione da una parte e memoria e storia per le tradizioni dall'altra, forte e tosto come la terra in cui vive. Per Laurencing sarà importantissimo però per i non alpini continuare ad addestrarsi sul territorio, questo l'ha sottolineato più volte nel suo discorso. Noi dobbiamo addestrarci, questo è connaturato in noi, dobbiamo continuare a fare addestramento per essere sempre pronti ad assolvere a tutte le nostre missioni in sicurezza. Il momento clou della cerimonia è stato il passaggio della bandiera di guerra, una delle più decorate delle truppe alpine, dalle mani di Laurencing al colonnello Mario Bozzi. Sono onoratissimo di essere ritornato all'Aquila da abruzzese, in tradizioni abruzzese della provincia di Chieti, quindi ho fatto qui buona parte della mia carriera operativa, alternando i carichi operativi con quelli di stato maggiore e sono veramente onorato, un bellissimo reggimento, ci sono tante attività per il futuro come ha detto il comandante della brigata e sono sicuro che questi ragazzi, che una buona parte sono tutti abruzzesi o comunque che si sono stabiliti in Abruzzo e sono diventati abruzzesi a tutti gli effetti, questo mi inorgoglisce. Dalla 93esima compagnia, avanti il Livio di fianco!